Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Quest'oggi affronteremo un problema secondo me importantissimo da imparare a risolvere l'audio sbilanciato Che cosa intendo? Ascoltate attentamente Sto registrando questo audio solo su un canale Sull'altro canale come potete sentire c'è un rumore di fondo Ok, sicuramente avrete capito qual è il problema Il problema è che c'è un audio sbilanciato Ovvero la traccia sinistra ha un rumore di fondo Un veicolo che si muove, una folla L'audio ambiente intorno alla persona intervistata Mentre sul canale destro c'è correttamente la voce ripresa da un microfono Spesso capita, e non è una colpa Che chi corre per consegnare un video in pochissimo tempo Diciamola in parole povere Se ne freghi, ecco, di correggere queste situazioni audio Pensando che l'audio non sia poi così importante E' più importante quello che dice l'intervistato E' più importante il video che si sta mostrando allo spettatore Ecco, non è vero perché quando capita di vedere e di ascoltare dei video con un audio completamente sbilanciato Specie se si ascolta in cuffia Ecco, a qualcuno può dare anche abbastanza fastidio Esistono ben quattro modi Ben quattro modi per risolvere un problema come questo Per ribilanciare un audio completamente sbilanciato come in questo caso E li vedremo quest'oggi uno per uno E vedremo come risolvere tutto in pochi clic in Adobe Premiere Pro Ricordo prima però il mio sito internet www.fabioambrosi.it Sito internet dove troverete l'elenco di tutti i video tutorial fatti fino adesso Troverete anche gli articoli di ciascun video tutorial Per ripassare leggendo in poche righe quello che ci stiamo dicendo in questi video tutorial E soprattutto troverete l'elenco delle lezioni che ancora dobbiamo fare Dobbiamo parlare di color correction, di grafica, di come si esporta un video Di come si lavora con After Effects per fare dei sottopancia per esempio Parleremo ancora di molte cose, di molti temi introduttivi Ad Adobe Premiere e parleremo ancora di audio per qualche lezione Se vi fa piacere ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube Per due motivi importantissimi Il primo è perché nei prossimi mesi usciranno probabilmente anche altri tutorial Su altri software Adobe tipo Adobe Audition, Adobe After Effects, Adobe Photoshop E poi perché se questo canale YouTube riuscisse ad avere un buon numero di iscritti Tanti iscritti potremmo pensare anche di fare delle video lezioni dal vivo Live per poter rispondere ai vostri dubbi in tempo reale E non purtroppo come capita solo indifferita con i commenti a questi video Quindi passate parole, iscrivetevi a questo canale YouTube E cercatemi su Facebook, c'è la pagina Presto lì cominceremo anche magari ad aprire un gruppo per tutti coloro che hanno bisogno di aiuto Vogliono condividere i loro lavori e avere consigli Ecco questo è il progetto ed è quello che ho in mente Nel frattempo però accontentiamoci di vedere come si bilancia un audio completamente sbilanciato Dunque la situazione è questa Se andiamo ad ingrandire la situazione della timeline Ingrandiamo la timeline Abbiamo una cosa simile a questa Abbiamo il canale sinistro come potete vedere Che ha un audio costante In questo caso era un audio ambientale Il canale destro invece ha la mia voce registrata con un microfono Preciso Non è sbagliato differenziare gli audio per i singoli canali Un bravo operatore Operatore chi ingira con la telecamera e fa le riprese Un buon operatore attento all'audio Ha sempre l'accortezza di registrare su un canale il microfono E sull'altro canale magari l'audio ambiente Oppure ha l'attenzione di registrare un canale un pochettino più alto di volume E un canale un pochettino più basso Perché? Perché se c'è qualche problema al microfono che magari si rompe o perde l'energia della batteria Il montatore può utilizzare alle brutte l'audio ambiente Se il microfono magari va troppo in su con i decibel e va in distorsione E ha registrato la voce anche con un livello un pochettino più basso Il montatore ha la possibilità di correggere situazioni di questo tipo Ricordo che se l'audio va in distorsione c'è poco da fare Non esistono algoritmi che correggano in maniera impeccabile audio distorti Quindi registrare avendo cura di tenere i livelli dei due canali O dei 3-4 canali perché ci sono registratori multicanali che possono fare cose fantastiche Dicevo se si ha l'accortezza di differenziare l'audio quando si fanno le riprese Quando poi si va a montare in Premiere il montatore può ascoltare e scegliere come comportarsi Ecco l'importante però è che il montatore scelga di fare qualcosa E non lasci l'audio in questo modo perché è veramente brutto Sto registrando questo audio solo su un canale Sull'altro canale come potete sentire c'è un rumore di fondo Mamma mia ed è semplice tra l'altro correggere una situazione tipo questa Abbiamo ben quattro strade da percorrere Una di queste è utilizzare il mixer di Adobe Premiere per provare a centrare a mano il canale audio O la traccia audio su cui si sta lavorando Ma lo vedremo questo più avanti perché parleremo nella prossima lezione di come funziona un mixer audio E in particolare come funziona il mixer audio di Adobe Premiere Quest'oggi vedremo altre tre soluzioni, credetemi, sono più che sufficienti Cominciamo dalla più semplice di tutte C'è un effetto tra gli effetti audio che si chiama riempi a destra o riempi a sinistra Ecco è un effetto semplicissimo da trovare Basta navigare nella cartella effetti audio e cercare l'effetto riempi a destra o riempi a sinistra O ancora più semplice come abbiamo visto nella lezione sugli effetti audio e video di Premiere Potete cercare l'effetto qui nella search bar Quindi cerchiamo riempi Ecco qua, basta scrivere qualcosina e già compare Riempi a sinistra e riempi a destra Cosa fanno questi due effetti? Ebbè dai, è semplice capirlo Riempi a sinistra, riempi al canale sinistro con l'audio di destra Riempi a destra fa il contrario Riempi al canale di destra con l'audio di sinistra Vogliamo provare? Riempi a destra, vediamo cosa succede Sto registrando questo audio solo su un canale Sull'altro canale come potete sentire c'è un rumore di fondo Ok, ho invertito nella spiegazione la funzione dell'effetto Riempi a destra sostanzialmente Prende l'audio di destra e lo porta anche a sinistra Riempi a sinistra fa il contrario Prende l'audio di sinistra e lo porta a destra Proviamo Vediamo Ecco, come potete vedere la mia voce non c'è più sostanzialmente Quindi questo è quello che fanno questi due effetti Oh, attenzione perché ovviamente c'è un effetto collaterale a questa situazione L'effetto collaterale è che se io applico l'effetto riempi a destra Per centrare la mia voce in maniera tale che si ascolti correttamente Sia sulla cassa di destra che sulla cassa di sinistra Scompare quasi completamente il rumore di sottofondo Che magari volevamo tenere per dare un contesto sonoro al nostro audio Ascoltate, ascoltate l'effetto Sto registrando questo audio solo su un canale Sull'altro canale, come potete sentire, c'è un rumore di fondo Ok, l'audio è centrato, però è quasi sparito il rumore Che, non so, magari state facendo un'intervista in una caffetteria O in strada e magari volete far sentire un po' di rumore Che circonda la persona intervistata in quel momento Quindi, sono effetti questi da poter utilizzare Non so, se registrate un audio, uno speech, un voiceover E volete centrarlo e non ve ne frega niente di tenere l'altro canale Allora, centrate uno dei due canali con questi effetti E l'altro canale sostanzialmente sparisce Vedremo tra breve come correggere questa situazione Perché chiaramente è possibile mantenere anche l'altro canale Vedremo come fare tra breve Ripristiniamo la situazione come era in origine Ah, ecco, per togliere un effetto io o fai CTRL Z Oppure, al solito, selezioni la traccia audio su cui vuoi lavorare Navighi nel pannello CTRL effetti Individui l'effetto che hai applicato e che vuoi rimuovere In questo caso riempi a destra Eccolo qui, cance sulla tastiera e l'effetto va via E tutto torna come prima Registrando questo audio Mamma mia E' capita spesso, è capita in molti siti anche importanti Di ascoltare situazioni in cui l'audio è ridotto in questo modo Fantastico C'è un altro modo C'è un altro modo per correggere una situazione simile a questa Che è quella di intervenire direttamente sul file sorgente O meglio, sull'oggetto multimediale presente nel pannello Nel pannello progetto di Adobe Premiere Nelle prime lezioni di questo corso E vi invito, se non l'avete fatto, se non avete mai usato Premiere A recuperare le prime lezioni di questo lungo corso su Adobe Premiere Pro Abbiamo detto che quando importate un oggetto multimediale Un video o un audio Sostanzialmente Premiere crea un link Tra questo oggetto multimediale e il file fisico presente sul vostro hard disk Quello che stiamo per fare è modificare il file sorgente Perché sostanzialmente abbia il canale di destra replicato sul canale di sinistra In maniera da centrare il suono Come abbiamo fatto con i due effettini appena inseriti La precisazione è questa Non vi preoccupate Perché qualunque operazione Quasi qualunque operazione che fate qui dentro Non va a distruggere il file originale presente sul vostro computer Quindi se voi fate qualunque modifica agli oggetti multimediali Nel pannello progetto di Adobe Premiere E poi andate ad aprire nuovamente il file originale sul vostro computer Queste cose non le trovate scritte A meno che non lo sovrascrivete con qualche export Ma non è questo il caso Dicevo perché questa precisazione Perché come ho detto Vado a modificare i canali audio direttamente sul file sorgente Ok o meglio sul più che file sorgente Meglio chiamarlo oggetto multimediale sorgente Il file sull'hard disk non lo tocchiamo Come si fa a modificare i canali audio della clip sorgente Basta individuare la clip audio nel pannello progetto Abbiamo anche questo Visto qualche lezione fa Che se avete migliaia di file E non sapete qual è il file che volete modificare Basta che tornate in timeline Tasto destro Rivela nel progetto Ricordate Premiere vi va ad individuare il file Che su cui state lavorando Tasto destro Sopra il file O meglio ancora Sopra l'oggetto multimediale sorgente Individuate la voce modifica E ancora andate a cercare l'opzione canali audio Ok quindi clicca tasto destro Modifica canali audio Si aprirà questa finestra Non vi preoccupate Non vi preoccupate È semplice da utilizzare Soprattutto se da piccoli avete giocato alla battaglia navale Avete presente no? Dovete fare centro e affondare i velieri nemici Ecco la situazione è simile Ignorate tutte queste cose Non le vediamo quest'oggi Perché è lunga e complicata Ma per un tutorial introduttivo va più che bene quello che vi sto dicendo Allora qui abbiamo I canali sorgente del file multimediale Quindi è quello che stiamo ascoltando a destra Adesso quindi abbiamo il canale di sinistra e il canale di destra La clip 1 sostanzialmente è questa clip qui Ok? È la clip che avete importato in Premiere Quindi canale sorgente e file multimediale Sono i canali presenti sul vostro file originale Ok? La colonna di sinistra invece ha i canali Ok? Ospitati da questo oggetto multimediale Ripeto C'è da fare distinzione tra il file presente sul vostro hard disk Il file originale, il file sorgente E l'oggetto multimediale che avete importato in Premiere L'oggetto multimediale che è dentro Premiere È collegato al file fisico presente sul vostro hard disk Ma queste operazioni non vanno a modificare il file sul vostro hard disk Vanno a modificare questo oggettino qui L'oggettino multimediale che dentro ospita il contenuto del file presente sul vostro hard disk È molto importante che voi capiate questo Perché? Perché qui, ripeto, abbiamo i canali sorgente del file multimediale Quindi qui ci sono elencati Qui ce ne sono due ma i canali possono essere anche di più, eh, attenzione Qui sono elencati i canali audio del file sorgente presente sul vostro hard disk In questo caso canale di sinistra e canale di destra Clip 1 si riferisce a questa clip, ok? Questa clip che avete importato sostanzialmente L'oggetto multimediale che ospita l'audio che avete importato Oh, qual è la situazione? La situazione è che sul canale di sinistra Ok, il canale di sinistra del file originale Viene inviato al canale di sinistra della clip presente nel pannello progetto Il canale di destra del file sorgente, del file multimediale, aggiungo, presente sul vostro hard disk Viene spedito al canale di destra della clip presente nel vostro progetto e su cui stiamo lavorando Ed è la situazione attuale, no? Quindi sentite nel canale sinistro il rumore di fondo e sul canale di destra la mia voce Io cosa voglio ascoltare? Voglio ascoltare la mia voce sia sul canale di sinistra sia sul canale di destra Quindi il canale di sinistra della mia clip presente dentro Adobe Premiere In questo momento ospita il canale di sinistra del file sorgente Ecco, io dico a Premiere Voglio ascoltare sulla canale di sinistra della clip su cui sto lavorando Il file, l'audio del canale di destra, forse prima ho confuso Comunque voglio ascoltare sul canale di sinistra il canale di destra presente sul file originale Ok? Ho una situazione tipo questa quindi Sostanzialmente sia sul canale sinistro che sul canale destro del file del pannello progetto Ascolterò il canale di destra presente nel file originale È un po' quello che abbiamo fatto prima con l'effetto Diamo ok e ascoltiamo quello che è successo adesso Sto registrando questo audio solo su un canale Sull'altro canale come potete sentire c'è un rumore di fondo Eh dai, avete visto no? Tenete d'occhio in questo caso anche il meter Questo si chiama meter Ok? Non ne abbiamo mai parlato in realtà Ma misura la scala in decibel dell'audio che state riproducendo La situazione di prima era questa Vedete, guardate come i canali sono sbilanciati C'è il canale di sinistra che fa una cosa e il canale di destra che ne fa un'altra Sto registrando questo audio solo Ok? Quando abbiamo fatto questa operazione con modifica canali audio Abbiamo impostato una situazione tipo questa Ovvero il canale di sinistra ospita il canale di destra Il canale di destra ospita pure lui il canale di destra Diamo ok Guardate come moduleranno i due livelli allo stesso modo Sto registrando questo audio solo su un canale Vedete che modulano, si dice, modulano praticamente in sincrono Sull'altro canale Non c'è un canale più alto e non c'è un canale più basso E hanno lo stesso contenuto Li ho duplicati praticamente Ok? Perché è comodo lavorare in questo modo? Ovvero agire direttamente sul file originale Invece che andare a, chiaramente, ad aggiungere un effetto Come abbiamo fatto prima Perché ipotizziamo di avere una situazione con tanti file audio Ora sto esagerando in maniera schifosa Ma ecco qua, per capirci Immaginate di avere una situazione tipo questa Una bella timeline con tanti file audio Avete tagliato l'intervista Ok? E andate ad ascoltare e dite Ah cavolo, l'audio è completamente sbilanciato Allora, se voi applicate Potete applicare chiaramente l'effetto di prima A tutte le clip Ok? E si può fare, chiaramente Selezionate le clip Andate nel pannello effetti Cercate l'effetto Fate doppio clic Sto registrando E l'effetto è stato applicato a tutte le clip Per carità, si può fare Però, se avete una timeline non così semplice Ma lunghissima, piena di tanti oggetti Dovete andare a cercare ogni volta che avete utilizzato quella clip Diventate scemi E ricordate quello che ho detto tante volte in passato Quando montate un video, quando lavorate in Premiere Dovete essere veloci e precisi Precisi e veloci Quindi potete essere precisi quanto vi pare Ma se impiegate tre ore Ecco, non siete veloci Ok? Come si fa ad essere veloci? Semplice Andiamo nel pannello progetto Prendiamo la clip Che vedete essere sbilanciata Lo vedete anche dalla forma d'onda Andate sulla clip Tasto destro del mouse Modifica Canali audio Duplichiamo il canale di destra Su entrambi i canali di questa clip Clicchiamo ok Guardate anche l'onda come cambia Guardate l'onda come cambia Aspetta, prendiamo l'audio Ecco qua Così è più chiaro Lo rifaccio Guardate l'onda come viene modificata Modifica Canali audio Duplico Ok Vedete? Sono identiche E io con un click Se avessi una timeline grandissima Di 20 minuti Di un'ora Di 5 ore Di 30 ore Piena di clip Di oggetti multimediali Non devo preoccuparmi di cercare La clip Su cui voglio agire In tutta la timeline Agisco solo su questo file Su questo oggetto multimediale E tutto il resto va da sé Questo è il secondo modo C'è poi un terzo modo Ed è un modo Questo che sto per spiegarvi Utile se volete Conservare L'audio Ambiente Perché ripeto Se state facendo un'intervista Per strada E volete far sentire un po' Di rumore di traffico Perché magari siete Così Volete lavorare in questo modo Perché magari Vi interessa Fare ascoltare Non so In una caffetteria Il rumore delle tazzine No O perché ne so In un bar O Non lo so In un ufficio Il rumore di sottofondo Dell'ufficio Ecco Se avete queste intenzioni Non volete buttare tutto Allora Qui avete due modi Per lavorare Abbiamo detto Qualche lezione fa Quando abbiamo parlato Della differenza Tra tracce E canali Anche questo Anche quel tutorial Recuperatelo Ok Perché è importante Che la traccia audio È una corsia Che ospita Dei canali audio Sostanzialmente Vedete in Premiere Queste linee orizzontali Sono Diciamo I separatori Delle tracce Queste sopra Sono le tracce video Quelle sotto Le tracce audio Le tracce audio Come potete vedere Anche loro Sono 1 2 3 4 Ogni traccia audio Può contenere Tanti canali audio In Premiere 2 Mi sembra che in Premiere Non si possano Inserire più di 2 Canali audio Per traccia Devo essere sincero Non ricordo A livello teorico Una traccia può contenere Tantissimi canali In Premiere Credo soltanto 2 Il canale sinistro E il canale destro Ad ogni modo Questa traccia Evidentemente è stereo Perché ospita 2 canali O comunque Ne ospita 2 E ne riproduce 2 Ok Ma guardate cosa accade Se io prendo questo audio E lo posiziono Alla traccia 4 Che ho precedentemente Creato Quindi non vi fate Illusioni Di default Ne avete 3 Ascoltate Sto registrando Questo audio Solo su un canale Sull'altro canale Come potete sentire C'è un rumore Di fondo Eh Avete capito Cosa è successo È successo Che Le clip Continuano Diciamo Ostinatamente Ad essere Composte Da due canali Uno di sinistra E uno di destra A sinistra il rumore A destra la voce Ma Questa traccia qui La traccia numero 4 Che io ho creato È una traccia Mono Cos'è una traccia mono? È una traccia Che quando viene riprodotta Non riproduce Due canali audio O più canali audio Ne riproduce Uno Ed uno soltanto In questo caso Anche se Dentro A queste clip Ci sono Due canali audio Essendo la traccia mono Viene riprodotto Un unico canale audio Che Miscela Ok Insieme Sia la mia voce Che l'audio ambiente Guardate il meter Come si muove Con un solo canale All'unisolo All'unisono Solo su un canale Sull'altro canale Come potete sentire Ok Ovviamente Il master Della mia timeline È stereo Quindi qui vedete Modulare due canali Ma qui poi Prendiamo una deriva Che è meglio non aprire Ok Non la facciamo Troppo complicata Sintetizzando Ho creato Una traccia mono Come si crea Una traccia mono? Allora Intanto le tracce Si creano E si eliminano Cliccando in questo Spazio vuoto Nella sequenza Non qui Eh Attenzione Nella parte sinistra Clicco C'è la voce Elimina tracce Chiedo a Premiere Di eliminare Tutte le tracce Vuote Se voglio eliminare Tutte le tracce vuote Oppure nello specifico Voglio eliminare La traccia audio 4 Via Non c'è più niente Non c'è più nemmeno La clip che avevo inserito Prima La inserisco nuovamente La clip Magari sulla traccia 1 E vado a creare Una traccia mono Come si crea Una traccia mono? Come abbiamo fatto adesso Tasto destro del mouse Aggiungi tracce Questa volta voglio dire A Premiere Non voglio nessuna traccia video Quindi di default Lui ne mette una Ma noi ne mettiamo zero Così che non vengono Aggiunte tracce video Inutili Anche qui Restate ordinati Non create 50 tracce Che non servono a nulla Dovete avere sempre Le tracce indispensabili Per lavorare Tracce audio Di default Ne aggiunge una E ci chiede anche Dove vuoi aggiungerla Io in questo caso Gli dico Voglio aggiungerla Dopo l'audio 3 Quindi dopo Sostanzialmente La terza traccia Ma posso anche chiedere Di aggiungerlo Prima della prima traccia Oppure dopo la traccia 1 Dopo la traccia 2 Eccetera eccetera Noi diciamo Dopo la traccia 3 Che tipo di traccia Vuoi creare E qui possiamo scegliere So che molti cominceranno Ah il 5.1 Figo Poi fa Fermi E' argomento interessante Ma per adesso Ignorate tutto E scegliete Chiaramente Mono Ok Cliccate su mono Lasciate perdere Anche qui Traccia audio Submix Cosa bellissima Ma non ne parleremo Perché E' un po' avanzata Come cosa Clicchiamo su ok E' stata aggiunta Una nuova traccia Una traccia mono La traccia 4 Ok Grandiamola Mamma mia Eccoci qua Ci porto la traccia di prima Rimpicciolito un po' troppo Ecco qua Ed ecco che otteniamo Il risultato Che abbiamo ascoltato prima Sto registrando Questo audio Solo Ok Ok E' chiaro No Dai Non è difficilissimo C'è un altro modo Per fare tutto questo Chiaramente Si Oggi vi sto dicendo Tutti i modi Che mi vengono in mente Anche a mano a mano Che faccio questo video tutorial Non avete scuse Se lavorate In una produzione E fate un audio sbilanciato Magari nessuno vi dice nulla Perché purtroppo Si sta diffondendo Una brutta abitudine Che è quella di dire Vabbè Chi se ne frega dell'audio Chi se ne frega Se non è perfetto La notizia è più importante No Ecco Visto che è semplice Facciamo queste migliorie Quando è possibile E il che vuol dire sempre Dal mio punto di vista Dicevo C'è un altro modo Si C'è un altro modo Di fare questo lavoro Perché Qual è la controindicazione Di creare una traccia mono E di lavorare così Sostanzialmente O di duplicare i canali E che non avete il controllo Sui volumi Cioè Se voi state lavorando Ad una clip Ad un'intervista E c'è un grande rumore di fondo Tanti bicchieri Tante tazzine Che sbattono Siete in un ufficio Con tanta gente Che fa Si Bello il rumore dei tasti Ma magari è troppo forte Il rumore dei tasti Ecco Magari può essere utile Controllare i volumi Quindi comunque Tenere più alto Il volume dell'intervistato E appunto Tenere di fondo Il rumore di fondo Le strade Che abbiamo visto Fino adesso Non ci aiutano A risolvere il problema Perché non abbiamo Il controllo Sui volumi Dei singoli Canali In questo modo C'è una strada Relativamente semplice Che consiste Nel Dividere I canali audio Presenti Dentro a questa clip In tanti Piccoli Sub Audio Se vogliamo Chiamarli così Mono Ok Vi mostro Quello che intendo Andiamo nel menu Clip Dopo aver selezionato Chiaramente la clip Scegliamo La voce Che già abbiamo visto Qualche tutorial fa Tra l'altro Opzioni audio E attenzione C'è una voce Scomponi In Mono Clicchiamo Guardate cosa è successo I due canali audio Presenti dentro A questa clip Sono stati divisi In due Clip Mono Ok Quindi Una clip Che è questa Conterrà E lo vediamo Soltanto La mia voce L'altra clip Conterrà Soltanto L'audio Ambiente Vogliamo fare una prova? Mettiamo in mute La traccia della mia voce Cliccando sopra la M Vicino alla traccia corrispondente E abbiamo soltanto Il rumore Di fondo Facciamo il contrario Questa volta Clicchiamo su solo Solo vuol dire Che riproduce solo la traccia In cui vi trovate Mute M Che la mette in silenzioso Sostanzialmente Quindi S Per mettere in solo Audio solo su un canale Ok Abbiamo due canali Due clip Sostanzialmente mono E a questo punto Possiamo fare i volumi Quindi andiamo in play Selezioniamo tutto Vedremo questo più avanti Come funziona Mettiamo un in e un out Per intenderci Ma andiamo al loop Sto registrando questo audio Solo su un canale Sull'altro canale Come potete sentire C'è un rumor Ah ecco chiaramente Dobbiamo togliere il solo Perché altrimenti Ascoltiamo solo la mia voce E facciamo i volumi Per abbassare un pochettino L'audio ambiente Sto registrando questo audio Solo su un canale Sull'altro canale Come potete sentire C'è un rumore di fondo Ok avete visto no Io vado a regolare i volumi Posso fare il contrario Abbassare la mia voce E alzare il rumore di fondo Sto registrando questo audio Solo su un canale Sull'altro canale Come potete sentire C'è un rumore di fondo Sto registrando questo audio Ok avete capito il senso Perfetto Questo è un modo Per avere il controllo Dei volumi Contemporaneamente Sulle tracce mono Che avete diviso Chiaramente queste potete buttarle Se non vi dovessero servire Non state cancellando nulla Sul vostro hard disk Tranquilli E questa traccia È sempre la traccia originale Che avete sentito prima C'è un altro modo Sì c'è un altro modo E l'altro modo Sostanzialmente Richiede l'utilizzo del mixer Quindi per adesso Non la vediamo Ok Nella prossima lezione Parleremo del mixer audio E vedremo come poter Regolare Il Si chiama pan Ovvero Il bilanciamento Di una traccia O di una clip A seconda E ve lo anticipo Se lavorate sul mixer Canali audio Sul mixer Delle tracce audio Che permette appunto Di controllare Il bilanciamento Delle clip O delle tracce E c'è poi Tutto il mondo Delle sub Delle sub audio Ma non ne parleremo Probabilmente In questo corso Introduttivo O forse sì Vediamo se facciamo In tempo Nella prossima lezione Non lo so Però ecco La raccomandazione Chiaramente al solito È Fate delle prove Giocate Provate E abbiate cura Dell'audio Delle vostre clip Perché l'audio Di un bel video È almeno Il 50% Del risultato finale Immaginate James Bond Senza la musica Senza gli effetti Senza un buon Un buon audio Degli attori Ecco Sarebbe inguardabile Probabilmente Ma anche un programma Televisivo O un'intervista Ad un politico Un'intervista Ad un politico Con un ronzio Fastidioso O con un audio Sbilanciato Distrae tantissimo L'ascoltatore O lo spettatore Quindi La raccomandazione Abbiate sempre Cura Dell'audio Che state creando Non lo sottovalutate Imparate Queste Queste tecniche Riproducetele E Prendetene Coscienza E Automatizzatele Nella vostra Routine Wow Sembro Come si dice Sembro un pontefice Che pontefica Però sono cose importanti Nel prossimo video tutorial Vedremo il mixer audio Quindi Chiudiamo Probabilmente Ci avviciniamo Alla conclusione Di questa sezione Del corso Dedicato all'audio Anche se ci sarebbe Un mondo da dire Però ecco Nel prossimo Nel prossimo video tutorial Parleremo di mixer audio Di adobe premiere Successivamente ancora Mi sembra Che parleremo Degli effetti audio Quindi come mettere Un riverbero Un echo Un delay Un flanger Altri effetti Un equalizzatore Per modificare Il colore della voce O della musica Ecco Vedremo un po' Gli effetti audio Utili E l'ultima lezione Sull'audio Riguarderà Come Poter lavorare L'audio Fatto in premiere Direttamente In adobe audition Non sarà un tutorial Su audition Sarà semplicemente Un tutorial Per mostrarvi Come sia possibile Lavorando in premiere Spedire poi Tutto l'audio In audition E migliorarlo lì Per poi riportarlo Di nuovo Dentro a premiere Faremo un corso Di audition Prossimamente E per questo motivo Vi consiglio Se vi va Di iscrivervi E di fare iscrivere I vostri amici A questo canale youtube Di venirmi a visitare Sul sito www.fabbiambrosi.it Di cercarmi Su facebook La pagina Mettete un like Quando saremo Veramente tanti Cominceremo a fare Le lezioni Dal vivo Sarebbe bello Così che Chi ha dubbi Perplessità Domande Perché spesso Dalle domande Di chi guarda Questi video Nascono anche Ottimi Spunti Per Spiegare Qualcosina Che magari A me così Sul due piedi Non viene in mente Come sempre Io vi ringrazio Grazie anche Per i bellissimi Messaggi Che mi Che mi mandate Fanno molto piacere E mi motivano Chiaramente Ad andare avanti Abbiate pazienza Se non vi rispondo C'è qualcuno Che mi ha chiesto Consigli Su un libro Sul montaggio Per imparare Un po' di teoria Non è che Non sto rispondendo Per mancanza Di volontà È che Ho un libro Molto bello Lo sto cercando Per dare esattamente Il titolo E le indicazioni Precise Per avere Maggiori informazioni Ecco Quindi Abbiate pazienza Se non rispondo Subito Capitemi Ecco Il tempo È quello che è E chiaramente Non mi è sempre Possibile Rispondere Subito A tutti quanti Per il momento Grazie Commentate Per domande Per dubbi Per aggiunte Se volete integrare qualcosa Mettete un like Iscrivetevi Insomma Interagiamo Ciao ancora Grazie Alla prossima